di Melso 8 e 850. Rivediamo la giovane Ferrari della Brixia, questa volta alla trave. Come dicevamo prima, di questa ginnasta ormai si conoscono esattamente le qualità e ovviamente in questa fase le sta confermando e per chi mai non l'avesse ancora capito, soprattutto per le persone fuori dal nostro ambiente, sta facendo vedere che tipo di lavoro si riesce ad avere in condizioni di routine quotidiana, quale quello del lavoro che si sta facendo presso questa società sportiva. È un atleta estremamente esile, però con una caratteristica temperamentale notevole, qui la vediamo aver fatto non soltanto parti artistiche ma acrobatiche di altissimo livello, grande l'equilibrio sull'appoggio, la giambe con cambio, riflicca ad un braccio, la stabilità è impressionante dell'atleta, sembra di vedere veramente che le bambine romene o cinesi magari, e qui si sta prestando a un grande salto e la finale, un doppio raccolto.